Ciao a tutti, benvenuti su Gossip e Newsita, il vostro canale preferito per le ultime chiacchiere e scupi imperdibili. Oggi vi portiamo dietro le quinte della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ieri sera, il Festival della Canzone Italiana ha chiuso con una vera sorpresa, Angelina Mango è stata incoronata vincitrice, ma la sua vittoria non è passata senza scosse e polemiche. Ma cosa è successo di così clamoroso? Ve lo diciamo noi? Giollier, il talentuoso cantante napoletano, sembrava essere il preferito del pubblico, conquistando addirittura il 70% dei voti nel televoto. Ma nonostante ciò, Angelina Mango è stata proclamata vincitrice, grazie al sostegno della stampa. E qui cominciano i pettegolezzi? Alcuni insinuano che dietro questa decisione ci sia un sottile pregiudizio nei confronti del talento napoletano di Giollier. E il motivo? Il suo modo di cantare nel dialetto napoletano. Ma la storia non finisce qui. Giollier non ci sta e ha espresso il suo dissenso in un'intervista, sostenendo che il primo posto sarebbe dovuto essere suo per diritto. E voi cosa ne pensate? Chi meritava veramente di vincere? Fatelo sapere nei commenti qui sotto. E non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare le notifiche per non perdervi nemmeno un gossip. Grazie per averci seguito su Gossip e Newsita, ci vediamo al prossimo scoop.